E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube Prima di iniziare questo gameplay vi vado a ricordare che sono in live tutti i giorni tranne il lunedì Live di Twitch, link in descrizione del mio canale Viola Detto questo potete acquistare questi e tanti altri giochi scontati Sempre dammi il link giù in descrizione Detto questo ragazzi vorrei provare questo fantastico Dirt 4 Che è da una vita veramente che non lo porto sia in live che a video Detto questo ragazzi facciamo un evento, facciamo una carriera Mi raccomando sostenete questa serie per altri episodi Quindi vi chiedo almeno 5 like ragazzi per i prossimi episodi Allora carriera detto questo vorrei fare rally All'appunto visto che da me c'è stato che magari vi lascerò nel box informativo I rally due valli nella realtà e vorrei farvelo anche qua Quindi quale facciamo ragazzi? Io direi che facciamo Proviamo a fare Sinceramente non lo so Proverei a fare rally campionato asfalto Proviamo a fare questo ragazzi Non l'ho mai fatto eh Non l'ho mai fatto Imposto difficoltà Facciamo pilota O non c'è qualcosa di meglio? Campione Facciamo pilota ragazzi Allora Frenata, accelerazione Applica Ok Veicolo Possiamo finire anche i veicoli giustamente Bah, no questo no 2020 Vediamo Cosa ci fa scegliere solo questo? No già Allora quasi quasi ragazzi userei questo Perfetto Avvia Perfetto ragazzi Ci vediamo tra poco una volta che ha caricato A tra poco Eccoci ragazzi Rieccoci Targa Gargona Spana Siamo in Spagna Comunque abbiamo abbassato un po' Il volume del gioco Questa è la pista Non è affatto male Anzi È abbastanza bella Vabbè Abbiamo un minuto Vabbè Poi leggete voi Insomma vi metto magari Lascio così due minuti A posto Ovviamente sto giocando Tutto ad ultra Ovviamente Collaudo Vediamo un po' Facciamo un po' di collaudo 5 4 3 2 1 Vira Vabbiamo Vabbiamo Fallerò il meno possibile ragazzi Oddio Destra 4 Però non gira E sinistra 2 In abballamento In sinistra 1 80 Destra 4 Sul crinale 60 Non gira raga Non gira Destra 4 E tornante aperto Sinistra Non gira un cacchio E destra 1 Lunga In sinistra 6 Sinistra 4 In abballamento E tienila destra Sul crinale Non gira un cavolo Comunque Devo passarmi ancora un po' Il volume raga Perché è denatamente alto Per voi Vediamo così Casomai fatemi sapere com'è Com'è il volume Perché meno Vedete un po' voi Insomma Allora Assetto veicolo Vediamo cosa possiamo fare Ruote da scorta Ma ne mettiamo 2 Preni Facciamo un po' alto Ragazzi Perché ho visto che non gira E posteriore alto Vediamo così come va Ok Bilanciamento Facciamo bloccato Marce Vediamo se possiamo aumentarne un po' Ok Morbido Va bene così Va bene così Direi Applica Ok Facciamo anche un altro screenshot Con l'auto Facciamo un altro giro di prova 5 5 5 3 2 1 1 2 3 3 60 3 60 3 3 3 3 4 5 Pare che è un po' meglio In sinistra 1 80 Destra 4 Sul crinale 60 Insomma Non molto meglio Destra 4 E tornante aperto Sinistra E destra 1 Lunga In sinistra 6 Sinistra 4 In abballamento E tienila a destra sul crinale Bah Non molto meglio eh Però vabbè dai Facciamo finta che vada bene Comunque in descrizione ragazzi Sono riuscito a trovare il gamepad Che sto usando adesso Quindi ve lo lascio in descrizione Facciamo una tappa sola ragazzi Perché il tempo vola Vediamo come va questa prima tappa Io mi muto ragazzi Ci vediamo il tutorial E il gioco 5 4 3 2 1 1 1 3 60 3 60 60 Destra 4 E sinistra 2 In abballamento In sinistra 1 80 Destra 4 Sul crinale 60 Destra 4 E tornante aperto Sinistra E destra 1 Lunga In sinistra 6 Sinistra 4 In abballamento E tienila a destra sul crinale Sinistra 3 60 Destra 5 In sinistra 3 E dosso E dosso Destra 4 E sinistra 6 Destra 2 Inna Tornante aperto Sinistra Lungo 60 Destra 6 80 Sinistra 6 Sul crinale Destra 4 Sinistra 3 Sinistra 3 Sul crinale Sinistra 3 Sul crinale Destra 4 Destra 4 E tornante aperto Sinistra E destra 1 Lunga E vabbè Ho preso un po' la mano ragazzi Perché è da tantissimo Che non ci trovo Sinistra 6 Non è arrivato a ventunesimo Ragazzi Succede E vabbè E dosso Destra 4 E sinistra 6 Sinistra 6 40 Destra 3 In abballamento Sinistra 6 Sul crinale Destra 1 In abballamento E sinistra 4 60 Nonnaggia Dico come ho frenato Di brutto Altra guarda Altra guarda Finalmente direi Allenta verso il commissario Sono arrivato a ventesimo E Troppo sta macchina Non è il massimo Non è il massimo Questa macchina Questa mappa Vabbè A posto Commissario Come è andata? Commissario Mi ha mostrato la classifica Da qui in avanti Dovremmo superarci Mi è andata male Dice il commissario Purtroppo Risultati Tapp Classifica Torno all'evento Vediamo se possiamo Tornare all'evento Provare a cambiare Anche Un asset Un po' Perché Sto asset Non mi trovo Ok Intanto ci da dei punti Ovviamente Ci da del denaro Per acquistare I futuri veicoli Ok Però Non mi trovo Molto bene Con questa macchina Diciamo Perché sono abituato A fare Altri 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 tappi Proviamo a fare Classico Però non so Quanto tempo Cosa mai facciamo Un collaudo Di classico Vediamo Veicolo Anche qui Possiamo scegliere Ma diciamo Che i veicoli Migliori Ragazzi Per il momento Sono questi C3 Qua che ci da Proverei a fare Con questo Vediamo Come va Ci vediamo Tra poco Che appena Ha caricato Ragazzi Tra poco Ok ragazzi Eccoci Ovviamente Non so Quanto durerà Questo gameplay Ma vediamo Fino a dove arriviamo Ok Prosegue Prosegue Collaudo Facciamo un collaudo Ragazzi Così Giusto per 4 3 2 1 Tira Gridale Qui va molto meglio Sinistra 6 Tornante aperto Sinistra Dai all'interno Non tagliare Crinale 60 80 Dosso Subito Tornante destra Dai all'interno Destra 6 Sinistra 6 Sul crinale Sinistra 6 Su dosso Destra 3 Sinistra 6 Sul crinale Un cancello Destra 5 Sul crinale Sinistra 3 Lunga Non tagliare Destra 3 Sul crinale Abballamento 60 Un cancello Abballamento Sinistra 3 Crinale Beh Beh dai Ci sta Ci sta Ci sta Però ragazzi Io per il momento Mi fermo qui Perché non so se Riesco a fare una Tatta di questo Una tatta Vediamo Vediamo ragazzi Ok Perché questo è più da live Che non da video Ovviamente Però ho deciso Di farci un video 4 3 2 1 Via Crinale Destra 6 Sinistra 6 Tornante aperto Sinistra Dai all'interno Non tagliare Crinale 60 80 Dosso Subito Tornante destra Dai all'interno Destra 6 Sinistra 6 Sinistra 6 Sudosso Destra 3 Sinistra 6 Sul crinale Cancello Destra 5 Sul crinale Ho spaccato la macchina Ho spaccato la macchina Destra 3 Sul crinale Abballamento 60 È più figlio Quello lampo Sto gioco Ragazzi Molto più figlio Il problema è fatto malissimo Sinistra 6 Destra 4 Sinistra 3 Dai al centro Sul crinale Destra 4 Sudossi Non tagliare In sinistra 2 60 Crinale E abballamento Destra 6 Destra 4 Sul crinale Abballamento Dai al centro Sul crinale Sinistra 6 In abballamento Sinistra 4 Sul crinale Abballamento Sinistra 6 Dai al centro Sul crinale Sinistra 6 Sul crinale In acqua Sinistra 6 Sudosso Destra 3 Sinistra 6 Sul crinale In cancello Sinistra 6 Sul crinale Destra 2 Sul crinale Non tagliare Destra 5 Sinistra 6 80 80 In abballamento Deve un po' migliorare, ragazzi, eh! Oh, che sono preso! Beh, dai! Più o meno è andata bene, però almeno sono arrivato prima con i tempi, ragazzi. Almeno quello. Almeno quello. Sono andato un po' avanti. Oh, eh! Ho un po' danneggiato la macchina, eh! Molto danneggiato la macchina. Va bene, ragazzi. Io direi che per il momento mi fermo qua. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati qua. Spero che questa serie vi sia stata di vostro gradimento. Se è così, lasciate un bel like. Chissà che magari non lo porti anche in live. Dipende un po' come va. Ovviamente, ragazzi, voi come sempre commentate, scrivetevi e lasciate un bel pollicione in su. Detto questo, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao! Ciao!